Musica E la poletta per pagare si fa E sono 10 che cantatezzi E qui me presta Fai Treves, fai Puma! Fai Treves, un Puma di la Corte, un'autorità cittadina, un campo plus davanti di Tocchioli. Da alcuni detto il Pullman di L'Ambra, siamo migliorati, tre mesi di affitto gratis, faremo solo pro, però bisogna vedere se ve lo meritate veramente, perché a volte qualcuno dice sì, però loro sono un po' morsi. Lascia perdere, allora vediamo un po' cosa sappiamo fare. Forse è una botanica, qualche crisi. Ci sta mettendo la prova. Lo conosco, ci sta mettendo la prova. Alla prossima! 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 Ah! Yes! Woo!